Manca acqua nel fiume Trebbia, da stamattina la diga del Brunietto inizia così il rilascio per le necessità agricole della vallata piacentina, un intervento ritenuto cruciale per fronteggiare la carenza idrica. Il rilascio sarà progressivo, ogni due ore verrà aumentata la portata fino a raggiungere un deflusso costante di poco più di mille metri cubi al secondo. Questa manovra è confermata anche dal consortio di bonifica, la riserva idrica è limitata, perciò il rilascio controllato si protrarrà fino al 10 settembre. Va ricordato che è in vigore un disciplinare tra Emilia Romagna e Liguria che prevede un rilascio di 2,5 milioni di metri cubi d'acqua a stagione irrigua. L'accordo è in scadenza proprio nel 2024 e per ora non si è ancora arrivati al rinnovo. Piacenza punta a ottenere un maggiore rilascio idrico, un istante di cui si fa portavoce anche Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, secondo cui è fondamentale istituire un nuovo disciplinare e non una semplice proroga poiché le esigenti di Genova sono cambiate ed è necessario un accordo che garantisca un rilascio idrico maggiore per la Valtrebbia. A intervenire è anche il consigliere provinciale Giampaolo Maloberti della Lega che ricorda come la regione Liguria utilizzi l'inceneritore di Borgoforte per una parte dei suoi rifiuti e in un discorso di mutualità tra i territori, dice Maloberti, è opportuno che il rilascio del Brugneto verso la Valtrebbia venga modulato in base alle esigenze idropotabili del nostro territorio. Grazie a tutti.